A poco più di un mese dal sisma che ha colpito il Mugello sono stati annunciati dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, nominato commissario per la ricostruzione, due contributi per chi ha la casa inagibile. Uno per l'autonoma sistemazione che andrà da un minimo di 400 ad un massimo di 900 euro e uno per risistemare in tempi rapidi gli edifici danneggiati con un sostegno di 25 mila euro. Il governo dopo la dichiarazione di stato di emergenza nazionale ha stanziato 4 milioni di euro e il presidente Rossi ha voluto fare il punto della situazione assieme ai sindaci dei comuni colpiti dal sisma. Ad oggi restano ancora fuori casa 778 persone nel comune di Barberino e 30 scarperia San Piero e gli edifici inagibili sono 150. Entro 30 giorni saranno effettuate tutte le perizie necessarie per capire l'entità degli interventi da effettuare sugli edifici danneggiati. Successivamente con gli incontri che faremo, ne faremo tre con la popolazione per evitare che siano assemblee troppo affollate, cercheremo di capire, avendo bene il quadro davanti, qual è la possibilità di intervento con i 25 mila euro. Come dobbiamo intervenire laddove invece non fossero sufficienti i 25 mila euro? Naturalmente saremo disposti anche noi come regione chiedendolo allo Stato, se lo Stato non risponde risponderemo anche noi, a sovvenzionare, ad aiutare queste persone perché si faccia l'intervento. Rossi infine ha lanciato la proposta di istituire un distretto dei vigili del fuoco che comprenda le zone appenniniche di Emilia Romagna e Toscana, zone ad alto rischio sismico. A me piacerebbe che il tema dell'appennino, della sicurezza sismica sull'appennino fosse trattato come tema nazionale perché costa sangue, sacrifici, morti e insicurezza in un punto fondamentale che è dorsale che tiene insieme il paese. Adesso il commissario avrà 40 giorni di tempo per elaborare un piano di soccorso, assistenza e sicurezza per la popolazione interessata dal sisma.